Siamo il mister dell'Inter dopo la vittoria nel torneo internazionale Roma-Est. Allora, al di là della vittoria del torneo, un suo giudizio sulla prestazione della squadra? Insomma, se l'ha soddisfatta, se è quello che cercava? Sì, devo dire che abbiamo fatto un buon torneo, sicuramente in crescendo, siamo partiti un po' così così. Poi, devo dire, prestazione dopo prestazione abbiamo fatto sempre meglio, ci siamo adattati al campo, però ne sono molto soddisfatti sicuramente. Per quanto riguarda la gara finale, ecco, il Valencia ha inciso anche un po' di stanchezza, chiaramente, per la partita anche della mattina. Alla fine, secondo lei, il risultato rispecchia quello che si è visto in campo? Ma, direi che il risultato è giusto, nel senso che loro non ci hanno mai pensierito, i nostri porteri non hanno fatto nessuna parata, quindi secondo me è stato legittimato. Ultima cosa, per quanto riguarda il torneo invece in generale, come si è trovato, per quanto riguarda l'organizzazione, per quanto riguarda il livello anche delle squadre, insomma, sia un torneo che ti viene di prestigio? Assolutamente sì, noi è il secondo anno che partecipiamo e siamo felicissimi di partecipare, anzi colgo l'occasione per ringraziare l'organizzazione, perché ci siamo trovati benissimo, dalla logistica, ai trasporti, a tutto quello che ha ruota attorno al torneo, quindi grandissimi complimenti all'organizzazione e al Presidente.